Ciao bimbi! Oggi avevo voglia di raccontarvi una storia. E la storia si intitola Nel fiume, uno straordinario viaggio verso il mare. Guardate un po'. Chi c'è qui? Chi è? Ma è un pesciolino! Un pesciolino che ci vuole raccontare la sua avventura. Sentite un po'. Tra le cime innevate e gli abeti della foresta soffia un freddo vento e la natura si ridesta. Nell'acqua di ghiaccio guizza un pesciolino pronto a intraprendere un lungo cammino. Il fiume scintilla sotto il cielo luminoso dove un bianco stormo si allontana silenzioso. Ai piedi delle alture, nell'acqua avvolgente, il piccolo pesce asseconda la corrente. Attraverso la pineta, nella scura nottata, l'acqua riflette una luce screziata. Un giovane cervo fiuta l'aria quieta, mentre il pesciolino si affretta verso la sua meta. Sempre più veloce, scorre l'ampio torrente, scrosce e zampilla, poi frena lentamente. Sulla riva si affaccendano dei castori operosi ed il pesce si nasconde ai loro sguardi curiosi. La luna brilla e il mondo si attormenta, ma il piccolo viandante è deciso e non rallenta. Tra i rami del bosco un gufo fischia piano, mentre il pesciolino va sempre più lontano. Due cuccioli d'orso, vicino a una cascata, salutano l'inizio di una nuova giornata. Tra sole e pioggia, neve e vento, il viaggio del pesce è a suo compimento. Le ore si susseguono, limpide l'aria, sta per accadere una cosa straordinaria. Il fiume ha incontrato il mare profondo e il pesciolino ha trovato il suo posto nel mondo. Ciao pesciolino, hai raggiunto i tuoi amici! Ciao, ciao! Ciao bimbi, ciao, ciao!